forse sono 120 kg quasi non sono di cartone VILENZIO! dai cast partito 5-8-3 quarta VILENZIO! azione ma che è sto schifo? ma questa è una discarica mi scusi ma non è colpa del personale dell'IDOS e la camarea ha portato un po' di immondizio sul bambino no 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 con te ci parlo proprio perché sei una femmina io voglio parlare con loro ma che sanno pure te devi da guarda che schifo è una discarica sbrigate proprio ma l'alta mare è un fenomeno naturale di cui non abbiamo comprato e poi è tutta roba biodegradabile biode che? biode che? devi da lavorare guarda che roba non mi invada la mia sfera di competenza sbrigate devi da andare a lavorare guarda che roba ti devi da sbrigare grazie 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 grazie